E che c'hanno i cannoni da Navarone questi? A Calabrese! Che cazzo spari a Calabrese? Sormannezza! Te devo parlare! E allora? E allora non parte i coglioni, vengo giù e te lo spiego! Figliacco Assessino! Buttala, pistola! Buttala! Come sei impulsivo! Te impulsivisci e quando te impulsi qua si capisce più cazzo! Questo e' un locale privato, bisogna essere soci per entrare! Alino, guarda un po' come fa armonnezza perché un giorno te potrebbe pure servire! A Borghiba, noi vogliamo sapere soltanto dove e' la donna dei Bresciamelli! Abbiate più dare, lasciate Camilla! E' in pericolo di vita, entro stasera deve essere riportata in clinica! Vi assicuro che farò di tutto per... Pronto? Chiamo Roma 2, chiamo Roma 2, mi sentite Roma 2? No, era una pecora, ma adesso so' io, dimmi! Buongiorno, si è allodato Gesù Cristo! Si è allodata pure l'anima degli mortacci tua! Ammonnezza, non scherzare! Guarda che quello ha rapito una ragazzina che c'è i reni malati e se noi non arrivamo a un tempo, quello mori, hai capito? Mori! Beh, chi se ne frega! Ma rifai quella faccetta! A parlare... A parlare... Grazie a tutti. Grazie a tutti.